Si chiama Piazza Pulita, l'operazione della squadra mobile dell'Aquila diretta dal dottor Tommaso Niglio, che ha evitato che un chilo di cocaina fosse immesso nel mercato aquilano, perché l'offerta c'è, ma vuol dire che c'è anche la domanda. I particolari dell'operazione che ha portato all'arresto di Tahir Selmani, macedone di 50 anni, e di Adi Sidiai, albanese di 28 anni circa, trovati in flagranza mentre disotterravano lo stupefacente a Ocre nei pressi del cimitero, sono stati svelati in una conferenza stampa inquestura. Il sequestro più ingente mai avvenuto in città, questo della mobile, con narcotici e collaborazione della squadra volanti. L'indagine è partita grazie all'applicazione U-Pol, agli agenti è arrivato un messaggio, a Paganica c'è un soggetto che spaccia liberamente. Da qui sono stati individuati i soggetti e pedinati per un tempo esiguo, si muovevano con velocità, non parlavano mai a telefono di affari. A marzo erano stati fermati dalle volanti, tra l'altro in macchina avevano un tirapugno e una mazza da baseball. Il macedono aveva anche un ordine di espulsione dal questore perché soggetto pericoloso. Diverse le piazze di spaccio che avevano creato, l'Aquila, Paganica, Bazzano e Sant'Elia, l'albanese prendeva i contatti ma erano molto abili e in giro non portavano grandi quantitativi di sostanza, tant'è che quando furono fermati avevano soltanto due grammi con loro. E non trattavano solo cocaina perché a Genzano di Sassa, nelle scorse settimane, il macedono era stato trovato con la marijuana. Per il valore si tratta di 100 euro a grammo, quindi 100.000 euro sul mercato. La droga ora sarà analizzata ma la mobile ha già constatato che si tratta di un livello di purezza inusuale per la città. Questo sequestro che è vingente fatto all'Aquila di cocaina, un cuore di cocaina, ha impedito che la città fosse inondata di questa sostanza stupefacente. Abbiamo arrestato due cittadini stranieri, un macelle e un albanese. Questo ha testimonianza che l'Aquila è diventata anche un luogo dove ci si può rifornire di cocaina, non soltanto una piazza di spaccio dove si può incorrere in attire e in più venditore.